1, 2, 3, 4 Ciao a tutti e bentornati Allora, dopo la rovinosa live buasta trasmessa qualche giorno fa da Chiara dove praticamente cercava di imbastire un nuovo dissing con Pericolonda e faceva quello che potremmo definire un excursus del percorso amore-odio con la dama c'è stata una serie di mini live buasta anche da parte di Davide che non è stato per niente tenero contro chi quotidianamente cerca di minare la felicità di questo loro mondo fatato Quindi noi oggi andiamo a riassumere non una, bensì ben due mini live buasta by Davide La prima, quella che porta per titolo Fate pena, quella che dura poco più di 23 minuti Per fortuna La live in questione già dalle prime battute risulta frizzantina Perché? Perché c'è Nonna Luna che è palesemente sul piede di guerra I confronti di Senz'Anima perché per chi non lo sapesse Senz'Anima aveva fatto una live poco prima dove chiedeva a Chiara di tenere a bada sua madre Perché più volte era intervenuta da lei con commenti poco pucciosi E che era stata bannata Rea anche di aver screditato i veneti E Nonna Luna dichiara che non era lei a scrivere quei commenti Bensì si trattava di un suo fake E che il suo discorso sui veneti era stato palesemente travisato Dopotutto lei si ritiene una donna sempre dolce e soprattutto tenera I toni si fanno sempre più accesi Tanto che Davide interviene Cercando di calmarla E riportare la discussione su toni un po' più tranquilli Lei risponde che praticamente non le frega proprio niente Bene, già sappia che prenderanno spunto da questo suo intervento Per attaccarla ulteriormente E allora Davide risentito per la brutta piega che ha preso la sua live Le chiede del perché sta esponendo ora il suo disappunto nei confronti di Senza Anima E non quando è successo il fattaccio Dal canto suo Luciana risponde che di fatti Lei non aveva nessunissima intenzione di parlarne di questa faccenda Ma siccome un utente è intervenuto in chat chiedendo cosa stava succedendo Lei ha spiegato E allora Davide cosa fa? Cerca in chat l'utente che aveva chiesto spiegazioni a Luciana E lo banna E stessa sorte vale anche per tutti quelli che gli scrivono di calmarsi Risentito del fatto che ritiene il suo canale Non un canale di pettevolezza Ma un canale che propone Che porta argomenti di Vabbè, Luciana vedendo che Davide sta dando leggermente di matto Invita gli utenti a chiudere la discussione E lasciare che Davide, proprietario del canale Conduca la sua solita live tranquilla e noiosa Perché lei farà una live dedicata a venerdì Dove risponderà ed esporrà in merito all'attacco ricevuto da Senza Anima Pienamente quella che è la sua opinione Ma Davide non ci sta Ha bisogno di marcare il territorio Si impone con Luciana anche sulla sua scelta di bannare o meno Perché? Perché lui non è stupido E quindi banna solo le persone viscide Come quello che ha scritto Che succede, Luciana? Perché uno che scrive una cosa del genere Si è già descritto cos'è Un viscitone Ma non aveva detto niente di male Comunque Allora Qualcchio dente chiede Ma perché non le aprite un canale tutto suo alla signora Luciana Piuttosto che farle trasmettere dai canali vostri Lui risponde con molta fermezza Che ha già deciso che Luciana trasmetterà da un loro canale secondario Quello dedicato solo alle live Sembra molto sicuro di sì Davide Ma interviene Chiara con un commento E lo smonta subito Scrive Si farà il suo canale Quindi per gli affezionatissimi di Nonna Luna Piccolo spoiler Presto ci sarà un canale dedicato interamente alle live di Luciana Ora immagino l'eccitazione galoppante Ma riportate il tutto a livelli ottimali Perché c'è Davide che è diventato veramente una furia inarrestabile Batti becca con Luciana Con gli utenti Banna Sbanna Usa frasi del tipo Andate fuori dai coglioni Avete rotto il cazzo Ho detto cazzo Ed interviene Luciana Chiedendo di darsi una calmata Insomma Dato che il discorso l'hanno affrontato E ora sarebbe il caso pure di chiuderlo Come se non bastasse Nel frattempo che succede tutto questo Chiara in chat scrive che Oggi è stata dai carabinieri per fare denuncia Ma non si sbottona più di tanto Davide è agitato Sente caldo Anche troppo Leva via la canotta Ma dopo due secondi la rimette Sia Luciana che Chiara lo invitano a calmarsi Lui risponde che ci sta provando Ma che ha bisogno di tempo Insomma Chiara chiede supporto tramite like In 28 rispondono positivamente Su 2920 visualizzazioni Beh dai Stiamo migliorando La regia ipotizza che Dei 28 like ricevuti 25 sono i loro Io non mi esprimo L'argomento della live finalmente cambia Si parla di un argomento molto apprezzato Nei vlog Nelle live di Davide Cioè Il clima Tema di cui Davide è sempre aggiornatissimo Infatti segue tutti i vari servizi che offrono aggiornamenti in tempo reale Infatti pare che sia cambiato tutto Il discorso fa poca presa sul pubblico Lui si accorge E ricambia nuovamente il discorso Si parla di desideri Di belle case E lui dice che Non serve comprarle Anche se piacciono tanto Perché E perché E niente E si ricambia discorso Ci racconta che Lui ha vissuto nella sua vita Finora Solamente due traslochi E In questi due traslochi Sono andate perse tantissime cose Soprattutto sue Ma che Comunque Sebbene le abbia perse Le porta sempre nel suo cuore Come il sasso Che hanno trovato sulla spiaggia Quando sono stati la prima volta in vacanza A Moneglia Che Romanticamente Ha regalato A Chiara E lei prontamente Ha ributtato in mare E a ridaglie Tornano gli utenti A scrivere E chiedere alla Luciana Perché è così perfida Contro gli amici veneti E lei risponde Che assolutamente Non lo è Dio buono no Si ricomincia tutto da capo Poi Un utente Di nome Antoine Scrive che Lui lei Si ritiene amico di Luciana Ed essendo veneto Non si è risentito Minimamente Delle affermazioni Fatte da Luciana Sui veneti Ma Succede che Non ci crederete mai Davide Mal comprende Il commento E banna Antoine Poi gli spiegano Il senso Di questo commento E lui sbanna Però è ancora risentito Perché ammonisce Sul fatto Che appaiono Degli utenti Che cercano Solamente di aizzare Affinché Si crei Del dissing E lui si è stufato Ed ha intenzione Di utere la live Così dà modo Anche a Luciana Di aprirne una Tutta sua Inveisce ancora Senza alcun motivo Sugli utenti E Luciana Gli dice Che sta davvero Esagerando Lui alza la voce Accusa Luciana Di andargli contro E dare spunto Agli haters Di fare altri video Contro di loro La Luciana Non si fa intimorire E risponde Che lei Ha il solo scopo Di fargli capire Che sta esagerando E lui diventa Letteralmente Una belva Le urla contro Che la live È sua E che lei Difende persone Che neanche conosce Riferendosi ad Antoine Che anzi Potrebbe essere Tranquillamente Un hater Che si prende Gioco di lei Luciana non ci sta Sbotta rispondendogli Che gli haters Sono solamente Nella sua fantasia Che arriverà Un giorno A pensare Che gli haters Li ha pure in casa E che magari Ci dorme insieme E lui ancora Luciana Diamo da mangiare Agli haters Ancora di più Sono nervoso E ti sto difendendo E tu mi vieni contro E lei Ma cosa stai difendendo Cioè praticamente Lo ha asfaltato In meno di due secondi Lui non regge La botta E chiude Bruscamente La live Bene E questo voleva essere Un breve riassunto Di quello che è successo In 23 minuti Di live Buasta By Davide Accompagnato Dalla signora Luciana Ora Noi andiamo a fare Qualche piccola Considerazione In merito Allora La prima cosa Che penso È che La signora Luciana Si sia Letteralmente Stufata Dell'atteggiamento Dei suoi Tra virgolette Ospiti Col passare del tempo Si è resa conto Che sì Ricevono tanti attacchi Ma molto spesso Sono proprio loro Che si mettono Nella condizione Di riceverne A causa Del loro atteggiamento Poco democratico E soprattutto Poco chiaro Questo però Non legittima Chi li diffama Offende Minaccia O entra A gamba tesa In quello che è Il loro privato Che restano comunque Atteggiamenti Che sfociano Nel reato Perché nel momento In cui si offende Minaccia E denigra Non si tratta Più di critica Né ironia Ma solo di Cattiveria E soprattutto Ossessione Bene Questo per il momento È tutto Io vi auguro Buona continuazione Di giornata E vi do appuntamento A quello che sarà Il prossimo contenuto Ma nel frattempo Un bacio a tutti Da Gossip